Anzi, anche il Manchester United, comunque, proprio clamorosamente, una figura del cazzo, una figura di ipocrite, una figura di merda, proprio clamor, la fa cadere. Il Liverpool ha beccato proprio i gimenti, può mangiare, adesso si, però alla fine ha riuscito a sbancare il campo del Crystal Palace, quello che ha attraverso, quello prende il palo, quello è un contributo, quello si fa cacciare, adesso si fa espellere, alla fine la partita è stata spussata in equilibrio dei reti, invece il Manchester United è andato a prendere una squadra da merda, che già c'è nella passata, inizioni nella Premier League, ma alla fine ha sempre perso, ma come cazzo fai a perdere col Brian, che è una squadra che è lotta per non retrocedere, insomma, nelle sabbie mondi, le abilità salvezze, qua le spacciate, invece ha perso un'altra, ma come cazzo si fa, morire già tutti i giornali, tutte le liste quotidiane, già l'horror mirror, la mirror, come cazzo si chiama la rivista inglese, già rischia completamente la cosa, le espulsioni, già rischia l'esonero, clamoroso, non mangi se non hai, ma Mourinho già c'erano stati i bisticci di stare in società, quindi la cosa andava avanti, già si sapeva che andava avanti così, le bisticci di Mourinho, i capovolgimenti, le querele, quindi Manchester Sticca, giornata, ma come cazzo fai a perdere con il Brighton, però il Brighton è andato all'anima, è deciso, la vita si è giocata, quindi riuscì a ottenere un ottimo risultato, non per una matricola che già c'era, ma una squadra che deve conquistare la sabbizia, comunque, e con i denti, ma come cazzo si fa, comunque, mangi se era proprio, schifo, proprio, zero, 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 comunque ci chiamo, approssimune, scrivete sempre una pagina di fatto, voi, 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 scrivetele sempre, inizia, fondamentale,